via libera al piano dei rifiuti il consiglio regionale ha approvato il piano di gestione del ciclo dei rifiuti in vista del 2035 18 i nuovi impianti già realizzati o in via di realizzazione buonasera ben trovati a questo nuovo appuntamento con monitor consiglio tutto dedicato all'approvazione del nuovo piano dei rifiuti della regione da parte del consiglio regionale un piano che accompagnerà la toscana fino alle importanti scadenze europee del 2035 obiettivo la diminuzione dell'uso delle discariche l'aumento della raccolta differenziata 18 al momento i nuovi impianti di gestione del ciclo dei rifiuti già realizzati in fase di realizzazione o per i quali sono già in corso le procedure le opposizioni hanno criticato il piano sotto diversi aspetti hanno accusato tra l'altro la giunta di non aver concertato con i territori la localizzazione degli impianti e non aver rispettato l'autonomia gestionale dei tre ato rifiuti in cui è divisa la regione sentiamo cosa ha risposto alle critiche il presidente della regione eugenio giani l'opposizione nel dirci voi non avete rispettato rigorosamente il fatto che ognuno di questi di queste tre aree che poi sono i tre ambiti che sul piano dei rifiuti organizzano la regione con netta separazione non avete rispettato quello che erano gli intenti ho risposto che l'importante è l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti dell'intera Toscana e conseguentemente il piano che con flessibilità magari porterà più a concentrare a Montespertoli nel lato centrale lo smaltimento dei rifiuti organici e magari chiederà un impegno che va oltre quello che può essere il rapporto di proporzionalità con gli abitanti di una realtà che invece sulla costa o nel sud vive proprio questa necessità di renderci più omogenei e più organici in una visione toscana ecco che io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali il superamento delle discariche che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica dell'innovazione tecnologica ovvero superiamo inceneritori termovalorizzatori andiamo verso nuove forme l'ossicombustione la scomposizione molecolare che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso in terzo luogo proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso comuni enti di gestione gli impianti dei rifiuti vengano a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse decide di fare impianti dei rifiuti e ci sono lezioni in Toscana pensate al comune di Peccioli che con i rifiuti hanno costruito il loro sviluppo la loro qualità ambientale la loro qualità culturale quindi ecco partire dal basso invece partire dall'alto quanto sia una visione di modernità tutto questo in un piano dei rifiuti che naturalmente già prevede gli stimoli a queste localizzazioni ma non deve essere il piano a prevederli perché la localizzazione nasce invece alla fine del processo quando una proposta che viene da un comune da un ente di gestione vediamo alle condizioni sociali per essere poi tradotta in impianto sono 18 le proposte che vengono fuori e onestamente vedo che questa visione si sta affermando non solo in consiglio regionale che ha rispinto la pregiudiziale dell'opposizione che tendeva a far slettare il piano con 24 voti su 41 quindi una maggioranza al completa mi sembra sia venuto a mancare un solo voto di una persona che non è presente ma invece con questo piano noi creiamo un riferimento a tutta italia adesso però diamo la parola dopo l'intervento di gianni alle opposizioni e sentiamo che cosa hanno detto i gruppi di opposizione in consiglio regionale il piano è un piano come dire che non è coraggioso non fa una scelta di pianificazione nascondendosi un po dietro le norme ma in realtà a nostro avviso come ho detto in aula l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali alle comunità agli ato per dare una direzione che servisse anche anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti se li trova a casa in secondo luogo c'è un impatto molto ideologico contrario ai termo valorizzatori ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti difficilmente realizzati ce ne sono pochissimi esempi quindi si sa poco di questi impianti non c'è una concreta fattibilità sul campo e di questo si preoccupano soprattutto gli addetti ai lavori e sono molto costosi pensate a waste to chemicals 200 mila 200 milioni 250 milioni il costo mentre invece il tempo valorizzatore è una tecnologia che conosciamo che nel tempo è assolutamente migliorata dal punto di vista dell'impatto ambientale e che inevitabilmente chiuderà il ciclo o cercherà di chiudere il ciclo perché ad oggi le difficoltà sono grandi basta vedere quanti rifiuti vanno fuori dalla regione vanno fuori dall'italia e dalla toscana e quindi quanto è da un punto di vista economico il prezzo che i cittadini si trovano a pagare ogni giorno in Italia questo piano fa un sacco di discorsi è molto ideologico richiama tanto l'economia circolare di cui come dire si trova traccia nella normativa europea nazionale e anche già regionale e quindi in realtà bisognava passare al concreto dal 2017 anno in cui non è stato fatto il famoso termo valorizzatore di case passerini lato centro è quello dell'area metropolitana si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti e vengono portati fuori regione fuori italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici il famoso bando ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte il che vuol dire evidentemente che manca in toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima lo attendiamo da 10 anni ed è quasi pronto da tre e in realtà si è andato a creare grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione dei privati è un rovesciamento completo invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento gestione raccolta rifiuti ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione non solo finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti come per esempio il gasificatore di Empoli che è stato respinto dalla popolazione che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano insomma probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato in tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette miglioramento della gestione della raccolta e quant'altro probabilmente niente o addirittura un peggioramento perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi utility grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dal comune di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. È un piano di rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto perlomeno fino ad oggi rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto. Siamo anche in una fase transitoria perché poi questi impianti anche se pochi che già hanno avuto l'approvazione entreranno in funzione tra qualche anno quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe. Dopo le opposizioni la parola sul piano rifiuti passa adesso ai rappresentanti della maggioranza di iniziare dalla Presidente della Commissione competente Lucia De Robertis. Riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo cioè di provare a rendere questo nostro territorio dal punto di vista ambientale della salute più compatibile con le richieste che ci vengono tutti i giorni dai più giovani alle persone più anziane. Però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti perché a seconda di quante e quale osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035 quindi insomma è lontano. Ma in Italia è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti, una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale dove territori importanti come Siena, Rezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale e la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo tre anni, che era un impegno di legislatura che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Gianni e in questo caso all'assessora Monni. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime è un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente ma che viene data anche all'economia perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. Noi siamo consapevoli che è una proposta importante ma che ancora ha anche bisogno di alcuni perfezionamenti. C'è stato un bando che ha puntato a recepire la volontà di realizzare impianti anche innovativi che non hanno emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo visto che questi impianti sono proposti in molti territori ma mancano invece in altri territori e il lavoro che deve essere ancora fatto è quello anche di stimolare, di accompagnare dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale tutti i soggetti interessati soprattutto le comunità d'ambito affinché in ogni territorio ci sia una dotazione impiantistica adeguata in maniera tale da poter trattare i rifiuti facendoli circolare il meno possibile perché con più i rifiuti vengono trattati correttamente in prossimità e con più ci sono dei risparmi economici e migliora sicuramente il bilancio ambientale. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!